bella a tutti ragazzi qua gemelle d'oggi siamo qui in questo nuovo video ragazzi grazie grazie perché siamo quasi a 1000 iscritti mancano 45 persone ora non è aggiornato per bene però guarda no mancano 46 persone quindi ragazzi credo che in questo fine settimana ce la farò a raggiungerli cosa porterò per questi 1000 iscritti ragazzi allora io avrei intenzione di portare ben tre speciali non uno come ho fatto per i 500 per 500 portato l'account no ho portato per i 500 ragazzi scusatevi ho portato due speciali la money lobby e l'account e il contest oggi diciamo non oggi ma quando ne raggiungeremo forse sabato secondo me ben tre speciali allora il contest di cinque ben di ben cinque account moddati di cui primi due saranno di bio 2 chiaramente bio 2 o gta io entrerò dentro l'account di vostri account perché se facciamo prima poi il secondo speciale ragazzi sarà la money lobby allora sono mi sono arrivati qualche messaggio tipo e gmail mi ha chiesto mi accetti la richiesta di amicizia robe così quindi creerò un altro account vi farò tutto sapere fra pochi giorni perché diciamo ora lo devo creare devo creare anche un'altra email quindi mi ci vuole un bel po la il terzo speciale sarà non saprei un terzo speciale lo decidete voi ecco il terzo speciale ragazzi lo decidete voi me lo scrivete sotto nei commenti e ragazzi io vi ringrazio perché ci siamo quasi mi sono arrivate qualche domanda ehi che cosa porti per lo speciale 1000 iscritti su facebook oppure sotto in qualche video poi ora io una domanda ve lo faccio a voi la prima è che speciale volete per i miei un altro speciale per i 1000 iscritti e la seconda è se qualcuno di voi sa realizzare grafiche per il canale come vedete questa ora fa cacare perché è una screenshot dell'intro è venuta male questa l'ho fatta in 5 minuti l'emblema se le sapete realizzare mi contattate sotto nei commenti mi date il vostro skype così vi contatto in privato ne parliamo e ne discutiamo vi fate vedere qualche schizzo qualche bozza e se me la fate gratis anche meglio quindi ragazzi io vi ringrazio per questi mille quasi mille iscritti secondo me entro domenica sabato domenica ce la facciamo a raggiungirli io ragazzi avrei intenzione anche di fare un raduno su gta 5 di fare gare filmare reccare e così da mettere sul tubo su youtube cioè avrei intenzione di fare questo raduno però il problema è che c'ho un account pieno di amici e un altro ancora lo devo creare quindi farò sapere più avanti cosa farò quindi ragazzi io vi ringrazio commentatemi sotto lo speciale che un altro speciale che volete per i mille iscritti e se qualcuno di voi sa fare la grafica me lo dice sotto nei commenti e da gemella tutto ci vediamo in un prossimo video grazie ancora e un saluto